ammetto che è una serata più bella che abbiate mai passata e ora il cartone della bicicletta è presa fuori a posto per il vostro piccolo mouse è sempre stato uno dei suoi preferiti da quando portavo i manuali ed ecco una foto che è arrivata per la nuova datemi una bicicletta che mi è molto da un minuto grazie